Rouge Centro Benessere di Rosanna Longo, via Monte Sant'Angelo 27 Castrovilleri. Centro accogliente dotato di tutti i comfort, personale specializzato e qualificato, utilizzo di fito cosmesi performante 100% made in Italy. Doccia solare con platinum che permette sessioni abbronzanti combinate o alcollagene, grazie alla foto biomodulazione, nuova tecnica estetica, che consente, grazie alle lampade e alcollagene, di riattivare i fibroplasti. Trattamento viso-corpo in cabina spa calda e confortevole con cromoterapia e aromaterapia, protocolli personalizzati a seconda degli inestetismi della pelle. Rouge Centro Benessere e anche terapia olistica, massaggi decontratturanti di sblocco immediato per cervicale, lombosciatalgia, donne in gravidanza e copetazione estetica. Epilazione Total Body anche con trattamento definitivo laser, manicure e pedicure estetico e curativo, riflessologia plantare e auricolo agopuntura, self-makeup beauty sposa fotografico. Tutto questo e molto altro ancora al Centro Benessere Rouge, in via Monte Sant'Angelo 27, Castro Villari.